Allora siamo di Corsissima perché qui ci stanno bussando che dobbiamo salire sul palco per iniziare questo evento Not Just Local, l'unione tra l'umano e la tecnologia in casa Microsoft. Pino, prima del tuo saluto di benvenuto, un saluto al volo per gli amici di ADP. Renato, è un piacere aprire questo evento, un evento molto interessante, molto importante perché parlerà di trasformazione, parlerà di HR, due temi assolutamente fondamentali nelle agende di tutte le organizzazioni. Abbiamo organizzato questo evento con ADP, che è un nostro apprezzato fornitore. Andiamo! Una battuta al volo prima che te la chiederò sul palco. Perché sono determinanti questi due temi, secondo te, adesso? Cioè il momento della trasformazione e il momento delle persone? Ma la trasformazione oggi riguarda tutte le industrie, tutte le funzioni, tutte le aziende. Quindi è un tema cross sull'agenda di tutti gli amministratori delegati, di tutti gli HR, di tutti i CXO. Quindi in realtà veramente impatta, cross, tutte le aziende, tutte le situazioni. Il people, sono sempre più convinto che il people faccia veramente la differenza, soprattutto in un contesto che è dettato da ritmi sempre più importanti e da sfide sempre più impegnative. Il club di noi che crediamo che le persone facciano la differenza si sta quindi allargando sempre di più, è così? Assolutamente. Ho letto ultimamente un articolo della Harvard Business Review che dice che il profilo degli HR è il perfect fit per diventare AD. Questo lascia una speranza molto interessante per noi e ribadisce ancora la centralità del people nell'agenda delle aziende. Scenari nuovi che si aprono, dinamici, ci aspettano sul palco. Andiamo su. Grazie mille, Pino, per l'ospitalità di questa splendida casa. Grazie. Grazie a tutti.